Il Paradiso, trame al 19 aprile, Conti vuole tornare con Matilde, Irene e Perico litigano. Nelle puntate in onda dal 15 al 19 aprile, Elvira si ribella a Tulio e si presenta al Caffè Amato. Nelle puntate del Paradisi delle Signore, che andranno in onda dal 15 al 19 aprile, Vittorio svela la situazione con Marta, durante la quale chiede a Flora di aiutarlo a riavere Matilde. Intanto Elvira si ribella alle richieste di Tulio e si presenta al Caffè Amato contro il suo consiglio. Intanto Alfredo e Irene continuano a litigare per l'offerta di lavoro che Leonardo ha fatto alla ragazza, mentre Maria chiede a Silvana di incontrare Matteo in carcere e di aiutare Vittorio a confessare a Flora di aver tradito la richiesta di Marta. Teo finirà in prigione, ma Marcello tornerà presto a Milano per aiutarlo, e Umberto ricatterà anche Silvana. Intanto Maria confessa al padre di essere innamorata di Portelli. Tancredi racconta a Matilde che Vittorio e Marta si sono baciati durante un viaggio d'affari, e sfrutta la situazione per avvicinarsi alla moglie, portando Flora a raccontarle del tradimento di Conti. Nel frattempo sarà pronto a confrontarsi con l'ex moglie. Intanto Armando si accorge del crescente sentimento di Clara per Alfredo, finisce per litigare con Mirene per l'offerta di lavoro che Crespi le ha fatto. E credendo alla reazione della sua ragazza, Armando lascia Boscolo per l'estate e decide di allenarsi. Considerato tutto ciò, Elvira vuole partecipare ad un evento canoro alla caffetteria da Salvatore, ma Tulio è contrario. Marta decide di lasciare Milano. Marta ha intenzione di lasciare Milano dopo una lunga conversazione con Vittorio, e la giovane ha intenzione di spiegare a Frigerio i dettagli del suo ultimo incontro con l'ex marito. Intanto Conti chiede a Flora di aiutarlo a riconquistare la fiducia di Matilde, ma Matilde si renderà conto che Tancredi è l'unico che ha da guadagnare da questa situazione. Ciro non si arrenderà al fatto che sua figlia ha lasciato Vito e gli parlerà e lo esorterà a fare tutto il necessario per stare di nuovo insieme. Intanto Elvira si presenta al caffè Amato nonostante le richieste di Tulio, ma l'improvvisa apparizione di De Santis provoca una situazione inaspettata. Quest'ultimo si comporta in modo scortese con la fidanzata, e Amato interviene per proteggerla, anche se il giovane Garo non apprezza il suo intervento. Intanto Umberto sarà contento della riuscita del suo piano, ma Adelaide e Barbieri apprenderanno che l'accordo con Offer non porta alcun lato positivo. Alla fine Irene e Perico finiscono per litigare sul loro futuro. Intanto Maria chiede aiuto a Silvana per incontrare Matteo in carcere. Riassunto degli episodi precedenti nella puntata andata in onda la scorsa settimana, Matteo ha deciso di raccontare a Marcello la verità sulla vicenda Offer. Ma all'improvviso delle sue tracce si sono perse le tracce quando è stato arrestato. Inoltre, Leonardo diede ad Alfredo un documento che avrebbe permesso a Clara di competere nuovamente nelle gare ciclistiche. Intanto Maria comunica alla famiglia che la sua relazione con Vito è finita, ma Flora non sopporta il fatto che Umberto sia geloso di Adelaide e non la aiuti nel lavoro.